Buongiorno ragazzi, benvenuti in un altro video. Io vi parlerò dei giocatori da schierare al Fandacalcio dall'ottava giornata, cioè da domani, fino alla trentottesima giornata. Allora, come si dispone questo video? Allora, avremo difesa, cento di attacco, cinque giocatori per ruolo, più Nexa di altri cinque giocatori come sorpresa a schierare. Partiamo in difesa con Darmian in Inter-Bologna. Allora, l'Inter vive un momento di forma pazzesco. Bologna che in difesa manca di Posh, Lukumi e Christensen, quindi a sto turno Darmian io ve lo consiglio. Poi passiamo con Baschirotto in Lecce-Sassuolo. Allora, Baschirotto nel nostro corso è stato giocatore rivelazione della Serie A, con anche uomo salvezza del Lecce. Baschirotto è il perno che io per questa giornata ve lo consiglio. Poi vediamo un Sassuolo che in difesa lascia spazi, quindi concede tanto. E' troppo. Quindi il Lecce può far bene e quindi anche Baschirotto. Marchizza in Frosinone-Verona. Allora, Marchizza insieme a tutto il Frosinone mi ha stupito. Quindi io ve lo consiglio di metterlo a stagionata. Come lo stesso discorso che Sassuolo oppure il Verona concede troppi spazi, quindi può essere decisivo anche lui. Non dico che vi porterà tanti bonus, non può farvi un uguale, un assist, però un 6-6 e mezzo ve lo porterà. Poi Christensen-Cagliari-Roma. Un Cagliari che sta in difficoltà, penso che Christensen e tutta la Roma può far bene. Poi Schurz. Passiamo nel derby. Juve-Torino. Schurz sta facendo, diciamo, come ha fatto Bremer quando veniva allenato a Juve. Forse anche un po' meglio di Bremer, secondo me. Quindi ve lo consiglio. Passiamo al centrocampo. Mazzitelli. Frosinone-Verona. Mazzitelli è un altro giocatore che mi ha stupito insieme a Marchizza. Quindi viene da due gol più un assist e ve lo consiglio a sta giornata. Poi Deron. Lazio-Atalanta. Deron, anche se loro, anche come la Lazio-Atalanta, ha le coppe. Per me Deron è un giocatore di una tecnica sublime e pazzesca. Quindi io penso che Deron già viene in sette partite con tre assist. Ve lo consiglio che può far bene a sto turno. Barella. In Inter-Bologna. Reinders. In Genoa-Milan. In Milan giocherà fuori casa non del Genoa, ovviamente. E, secondo me, soffira col Genoa. Però Reinders. Allora, io avevo aspettative un po' diverse. Che veniva dalla Bundes alla Serie A. Però mi ha stupito. Poi, passiamo in Napoli-Fiolentina con Politano. Allora, Politano, se mancherà Zelischi, probabilmente per turnover, sarà il rigorista del Napoli e ve lo consiglio di mettere. Poi, Politano va sempre messo, perché non si può mai sapere qualche giocata delle sue o il rigore. Non si può mai sapere che lo possono assegnare al Napoli. Politano può batterlo. Passiamo agli attaccanti. In Napoli-Udinese, Lucca. Allora, l'attacco di Udinese è altamente ignobile. Indecente. Lucca, avevo molte aspettative su lui, invece mi sta altamente deludendo. Però a sto turno penso che può riscattarsi. Penso che l'Udinese, come sappiamo, si deve salvare. Perché sta quasi in zona retrocessione per con due. Deve riuscire a fare punti più che altro. Se non lo fanno, spero con le zone di sottile. Però penso che Lucca a sto turno un assist o un gol può farvelo. Quindi, se lo avete, mettetelo. Se lo avete scelte migliori, mettetelo. Poi, passiamo a Gonge in Frosinone-Verona. Si, Gonge. Questo è uno dei giocatori che sta a secco da tre giornate. Può far bene, perché un gol vence il Frosinone e il Verona lo fa a Frosinone. Quindi, ve lo consiglio. Mettetelo se lo avete. Il giocatore belga non può stare a secco così, eh. Quindi, schieratelo se lo avete. Poi, ho Jovane Cabral in Monza-Sernitana. Jovane Cabral è quello che ha preso, secondo me, più pali e più travesti in questo inizio di campionato. Quindi, penso che o un assist o un gol può farlo. Poi, Zigze. Inter-Bologna, questo è un po' più rischiato, Zigze. È l'unica punta del Bologna che può far male all'Index. Cioè, Carson, contro il Benemondo, sta facendo un po' cagare ultimamente. Ndoye, stessa cosa. Orsolando, ah boh, gioca in un ruolo diverso, ovviamente. Però, Zigze, ve lo consiglio a sto turno. Mettetelo se lo avete. Poi, Pinamonti, in Lecce-Sassuolo. Pinamonti già sta a quattro gol. Il Sassuolo, attacco, attacca da Dio, quindi, tra i vari laurentè, Berardi e Nascondato Dilli. Quindi, vi consiglio Pinamonti. Che è un golletto, può portarvelo. Quindi, se lo avete, mettetelo. Ora, passiamo ai giocatori extra, delle sorprese. Allora, se avete Cagliode, mettetelo. Che in Napoli-Fiorentina può far bene. Cagliode con del Cagliari ha fatto il 93% di possesso palla. Ha salvato un gol sulla linea di Nandes. Quindi, ragazzi, un talento 2004 italiano. Mettetelo, se lo avete, rischiatevelo. Poi, passiamo con Lazio-Atalanta. Kamada o Guendosi possono far bene. Quindi, se avete Kamada, mettetevi come, diciamo, riserva Guendosi. Oppure, viceversa, se avete Guendosi, mettetevi riserva Kamada. Perché, da come ho letto, può giocare Kamada. O, rischio turnover, può iniziare a giocare direttamente Guendosi all'inizio. Quindi, se avete tutte e due, mettetevi. Poi, passiamo con Friendroop. In Genoa-Milan. Friendroop viene da sette partite con tre assist. E ha fatto assist con Fiorentina, Roma e Udinese, ovviamente. Quindi, se avete contro Milan, io ve lo consiglio di metterlo. È un rischio, è un azzardo, promettetelo. Poi, con Zito-Lovumbo. Lovumbo-Zito, ragazzi. In Cagliari-Roma. Lovumbo è l'unico segno della squadra. Non c'è nessun altro attaccante. Perché la Padula è infortunato. Ritorna verso la fine di ottobre. Pavoletti. Mo' sta acquistando un po' la forma, quindi... Ve lo consiglio, Lovumbo. È l'unico pericoloso del Cagliari. E poi, passiamo con Caputo. In emboli-Udinese. Caputo, per favore. Signi pure a porta vuota. Cioè, non segni niente. Sei peggio di Cagliardini. Cioè, le spari fuori pure a porta vuota. Quindi, ragazzi, vi consiglio. Caputo, se l'avete, mettetelo. Che c'è da dire? Questi sono i consigliati stagiornata. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto. Mettete like, ovviamente. E ci vediamo nel percorso. E spollicciate, ragazzi.